Sono stati gli studenti del liceo Nolfi a Polloni, trasferiti all'ex seminario regionale, a ricevere a nome di tutti gli studenti fanesi delle scuole superiori questa mattina gli auguri per l'inizio dell'anno scolastico, da parte del sindaco Luca Serfilippi e del presidente della provincia Giuseppe Paolini. Una decina di classi, che per i lavori in atto nel campus di Via Tomassoni, sono state trasferite in altra sede. Ci vorranno due anni perché il nuovo liceo sia di nuovo disponibile. Io vedo un grande futuro per il Nolfi, per il campus e credo che tutto quello che verrà fatto fanno sarà all'avanguardia non solo nella provincia ma anche a livello italiano, come ha detto l'architetto Bartoli. I ragazzi che abbiamo incontrato stamattina, che fanno il primo anno, avranno l'opportuna fra un paio d'anni di essere e di concludere il loro percorso scolastico all'interno della nuova struttura che ci sarà. Sarà una struttura all'avanguardia, da un punto di vista energetico sarà altamente efficace, è una scuola Anzeb e anche con il risparmio idrico. Attualmente come vengono sistemati i ragazzi? Allora i ragazzi sono stati sistemati qui al seminario, poi verranno messi dei moduli abitativi alla Polloni. Voglio tranquillizzare molti genitori che mi hanno detto mettete i nostri figli nei container, non sono container, sono moduli abitativi che abbiamo già a Piobbico e abbiamo anche al campus a Pesaro e ci sono gli studenti che litigano per andare, per avere laurea dentro il modulo abitativo. Il modulo abitativo è un modulo che ha condizionatore, ha condizionatore d'aria, tutto, riscaldamento, si sta benissimo largo e anche luminoso. Intanto questa mattina, oltre agli interventi di natura istituzionale, non è mancato il saluto del dirigente d'istituto Samuele Giombi. Il saluto è quello che di solito mi preme fare, cioè ricordando loro, attraverso loro anche i loro genitori, i loro familiari, che entrano in una comunità scolastica dove devono sentirsi protagonisti attraverso la corrispondenza, la corrisponsione di due diritti e di due doveri fondamentali. Il diritto primario che hanno è quello di apprendere, sono qui per questo e hanno il corrispettivo dovere di studiare, di metterci del loro affinché il seminato attecchisca. Hanno l'altro grande diritto di essere rispettati come persone, perché sono prima persone e poi studenti e hanno dunque il dovere di rispettare a loro volta dagli loro compagni, gli adulti, gli ambienti, anche i beni materiali della scuola, che in una scuola statale sono beni di tutti, non sono beni di nessuno. Questa coppia di diritti e di doveri è lo stile con cui noi auguriamo loro di entrare da protagonisti in questa nuova comunità scolastica.